Alberto! 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 Voglio dire tanti grazie perché prima di tutto sono qui... C'è qualcuno al telefono che sta ascoltando? Intanto se qualcuno ha una camicia da parte poi me la faccia via, per favore... Voglio un pezzo! Ho visto che mi ha buttato lo spumante addosso. Per il resto io tanti grazie da dire. Io penso che abbiamo ottenuto un risultato che vada ben oltre le aspettative di quasi tutti noi, ma io in questo mese e mezzo, due mesi contestata alla campagna elettorale, tante volte ho detto che metto la faccia davanti a una squadra. Questo non è un risultato mio, ma è un risultato di squadra. È un risultato di... Grazie per voi! E lo penso soprattutto oggi. Abbiamo fatto una cosa grande, perché penso a dove siamo partiti cinque anni fa, quando sembrava veramente anche estremamente difficile vincere le elezioni, e penso che abbiamo fatto due mesi in cui abbiamo parlato solo, solamente, dei nostri progetti, dei nostri sogni, delle nostre visioni per la città. Anche quando non era semplice, anche quando era molto facile lasciarsi trascinare in certe polemiche. E penso che oggi anche il messaggio che viene dato è che un certo stile paga, che un certo stile può pagare.